Dalla Gelbison alla Gelbison, esattamente un girone dopo. Con la Gelbison cominciò ufficialmente l'Eragallo che solo pochi giorni prima era arrivato al capezzale di un gruppo smarrito ed impaurito e che nelle prime cinque giornate aveva messo insieme solo la miseria di quattro punti, navigando in acque agitate e con il triste penultimo posto in classifica. Una classifica che si aggravò ulteriormente con la sconfitta contro i Cilentani. Poi cominciò tutta un'altra storia, la svolta col crotone in casa battuto di misura. Da lì si avviò la risalita tra momenti esaltanti, qualche caduta ed una cavalcata che a distanza di quattro mesi vede ora il Foggia al quarto posto in classifica con sole cinque lunghezze di distanza dal terzo. Dieci vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte a cui aggiungere il cammino di Coppa con la semifinale raggiunta eliminando in serie Picerno, Juve Stabia, Crotone e Catanzaro e con l'andata contro la Juventus Next Gen che ha prodotto un vantaggio da difendere tra 12 giorni in Piemonte. 34 punti in 18 gare di campionato, media vicinissima ai due punti a partita. Gallo ha trasformato il brutto anatroccolo in cigno ed oggi quella che qualcuno etichettava come una squadra zeppa di figurine sembra destinata a poter davvero far sognare i suoi tifosi che oggi più che mai gongolano e sono tornati ad entusiasmarsi. Lo Zaccheria mercoledì sera era un catino ribollente di passione e quella passione e quell'entusiasmo sono destinati a lievitare con tutte le conseguenze del caso perché quando si infiamma il popolo rosso-nero nulla diventa impossibile.